Voglia di qualcosa di buono? A Baia Flaminia c'è l'isola dei sapori di Yimma e Vani. Piadina di nostra produzione, pasta fatta in casa al mattarello e sughi freschi su prenotazione. Assaggia i nostri menù di carne e di pesce, aggiornati ogni due giorni al prezzo di 13,50 euro. Le nostre specialità? Il cono dell'isola e lo strepitoso tiramisù alla Nutella. L'isola dei sapori di Yimma e Vani, un mare di bontà.